Lo sapevi che AJ Styles e il mondo della musica non sono poi così estranei? Nel 2011 il lottatore è infatti apparso nel videoclip della canzone Something to do with your hands della cantante Sarah Darling. Nel video AJ recita il ruolo di un idraulico elettricista tuttofare che risolve i problemi casalinghi della protagonista e finisce con il portarla romanticamente verso il pronto soccorso.